Non si aspetterà quello che gli combineremo oggi Crazy se n'è andato, abbiamo la macchina Dato che Crazy ci ha fatto tantissimi scherzi, adesso è il nostro momento Primo step, sapere a che ora è l'appuntamento con l'autolavaggio In pratica tre giorni fa ho sentito parlare a Crazy al telefono con l'autolavaggio Bene, io ho ascoltato tutto e mi sono messa d'accordo con il proprietario per fargli uno scherzo epico a Crazy E mi faremo sembrare che la sua macchina sia stata distrutta Completamente ragazzi Ok Giada, sei pronta, manca mezz'ora all'arrivo di Crazy Oh perfetto, non vedo l'ora Sì sì, è meglio che aspettiamo qua così, quando arriverà saremo pronti ad agire Perfetto Gio, sta entrando Crazy con la macchina Abbiamo aspettato due ore per questo momento Veramente era mezz'ora comunque Non si aspetterà quello che gli combineremo oggi, secondo me si metterà a piangere Sì, pure a me saremo stati cattivissimi Perché poi la macchina è il suo punto debole ragazzi Quindi si metterà a piangere e sarà disperato secondo me Oh mio Dio, se ne sta andando perfetto Noi potremmo andare dritto al punto ragazzi Adesso è il nostro momento per fargli lo scherzo Bene Crazy se ne è andato e guardate qui cosa abbiamo tra le nostre mani Abbiamo la macchina di Crazy e Crazy tornerà fra due ore e tre ore Quindi è il momento perfetto per iniziare a fare lo scherzo E vi starete chiedendo ma che cosa è questo pacco? Beh dentro ci sono una pallina e poi dei graffi per far credere a Crazy che la macchina è distrutta Bene attacchiamo il primo graffio ragazzi Ok perfetto Giada come si attacca Giada? E metti metti dai dai si toglie così guarda Ok Fantastico ragazzi Oh mio Dio già immagino la faccia di Crazy Sarà arrabbiatissimo Oh mio Dio ragazzi guardate è fichissimo Ma è perfetto sembra davvero reale Ok perfetto ora lo metteremo sul cofano Aspetta che non ti attacca è sporchissima sta macchina Così si incassa ulteriormente Vai 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 Un altro qui perfetto ragazzi E' arrivato il momento del tocco finale Cioè della pallina Ora la metteremo qua sopra così si accorgeremo che è proprio tutta sdemolita Madonna guardate Oddio No vabbè Sì la pallina Oh sarà incazzato nero E finora sta andando tutta con te Ragazzi ma secondo voi è finita qui? Assolutamente no perché ci sarà il tocco finale Che sarà la maionese e il ketchup Che renderanno il tutto molto ma molto più figo Guardate che figata E adesso il ketchup Che divertimento ragazzi Adesso si che è crazy Davvero ma davvero tanto Un altro po' qui così magari non vedrà più niente quando guida Perfetto Perfetto E ho finito il ketchup Adesso che abbiamo finito gli diremo al titolare di mandare un messaggio a Casey per farlo venire qui E vedremo la sua reazione Puoi venire a prendere la macchina Così presto Vabbè Finalmente Pronta la macchina Let's go Anche se è presto Vabbè mezz'ora è finito Oh lo sentiamo Lo sentiamo Oh mi sa Mi sa stavo sentendo E il mio che è qui Ma che schifo è Lo sento incazzando Stai incazzando Stai incazzando Stai incazzando Stai incazzando Raga Raga Stai chiamando alla magista Mi problema che non c'è Magista Oh ma Oddio Oddio La macchina è potente di ketchup Stai incavolando Incazzando Incazzando Raga No Ma che è Aspetta Raga No No raga Oh no Non c'è la c***a mia Oh No No Mi faccio vedere Appugnito questo video Ma sicuro Anche secondo me Però se lo meritavo un po' Dai ragazzi Ma sì Secondo me non se lo meritavo Scrivetelo nei commenti Oh mio Dio Non risponde Sto c***o Adesso è il nostro momento Andiamo a dirglielo a Crazy No no Crazy È tutta opera nostra Ma andate affanculo Ora chi la lava sta macchina Ovviamente tu Dai ragazzi ma state scherzando No io voglio capire una cosa Questi qua Sono graffi o no No sono davvero graffi Siccome dovevamo portare la macchina Io spero tu stai scherzando Ma il resto li vede che è finto Ma è scotch Ma è scotch No ma non me ne frega niente Ora mi lavate la macchina No non esiste No scusa me la devo lavare io Tutta sta roba Ma stai scherzando Noi E tu Ma che schifo Ora che è tutta opera E tu di c***a Hai vista la mia vita E Crazy Se non te la vuoi la fare Puoi camminare benissimo così Ma voi state scherzando Ma state scherzando No No non stiamo scherzando Questo video ragazzi è finito Ditemi nei commenti Se vi è piaciuto questo scherzo E scrivetemi Quale altro scherzo Da poter fare a Crazy E saluto l'iscritto di oggi Che è Antonino e Salvatore Ciao Andate a cacare Venite a lavare la macchina Non si toglie il ketchup Non si toglie Non si toglie